Frutticoltori della provincia di Verona, buongiorno e ben ritrovati a questo 14esimo notiziario frutticolo del pesco, kiwi, melo, pero, ciliegio e olivo del 15 luglio 2022. Un saluto dall'Aipo OP e dalla Coldiretti di Verona. Pesco, fasi fenologica, siamo in ingrossamento e raccolta dei frutti. Moniglia, si segnalano sintomi di infezione su Big Top ora in raccolta. Si ricorda di non trascurare i trattamenti pre-raccolta utili a prevenire marciumi nella fase di commercializzazione. Tignola del pesco, presenza di larve di seconda generazione. Va avanti il volo della terza generazione che ha iniziato a ovideporre, dove è necessario continuare a una difesa con insetticidi ad azione larvicida. Cimice asiatica, prosegue con il monitoraggio per valutare l'esigenza di intervenire con prodotti fitosanitari specifici, considerando che i piretroidi hanno azione abbattente anche nei confronti della larva di cilia. Passiamo ora all'actinidia, fase fenologica. Siamo in ingrossamento dei frutti con generale rallentamento dell'accrescimento per le condizioni di elevate temperature e siccità. Anche qui per la civice asiatica siamo in presenza dell'issetto in tutti gli stadi, dove è necessario va eseguito un intervento fitosanitario con piretroidi di sintesi da utilizzare al mattino presto. Melo, fase fenologica. Siamo in ingrossamento dei frutti. Le attuali condizioni di elevate temperature unite a condizioni di siccità provocano un generale rallentamento dell'ingrossamento dei frutti, che risultano di pezzatura non elevata. Carpocapsa, proseguono le catture d'adulti del secondo volo, oramai in sfinimento, con nuove deposizioni e nascita di larve. Attuare un intervento con prodotti adulticidi e larvicidi. Però, fase fenologica, siamo in ingrossamento dei frutti. Presenza di danni anche gravi provocati dalle condizioni caldosecche dell'ultimo periodo, con sintomi di brusone sulle varietà conference. Macolatura bruna, presenza di infezioni su frutti, anche elevate, soprattutto sulle varietà conference. Va mantenuta una gestante attività di difesa, particolarmente su varietà sensibili. Valutando anche che, oltre alle piogge, sono cagione di sviluppo, infettivi, le umidità matutine e l'irrigazione a pioggia sopra chioma. Psilla, presenza in diversi frutteti dove causano imbrattamento alla vegetazione e ai frutti, dove è necessario continuare con i lavaggi. L'irrigazione sopra chioma è utile per deprimere l'attività del fitofago, però non su abate e conference. Nelle aziende dove sono stati effettuati ad inizio stagione i lanci di antocoridi, il controllo del fitofago risulta molto soddisfacente. Per quanto riguarda il ciliegio e l'olivo, vi invitiamo a consultare i rispettivi periodici sui nostri canali YouTube. Commento alla cimice asiatica di questa settimana. Questa settimana le trappole hanno intercettato mediamente tre adulti e quattro giovani per i siti nell'area nord-ovest della provincia e 11 adulti e 9 giovani in quella sud-est. Sono presenti in questi giorni gli stadi di terza, quarta, quinta e adulto della prima generazione estiva. Continuano comunque le ovide posizioni delle generazioni svernanti, anche se in misura molto minore. Nell'area melopero permane una forte differenza di popolazione tra il settore più a nord nell'alta pianura e quella a sud della bassa pianura. Nei quattro siti su cultura erbace la fase è compresa tra la quinta foglia e fioritura per la soia. Le catture si stanno verificando in un solo sito. Al momento su soia non sono indicati trattamenti in quanto la fase sensibile inizia dopo la formazione del baccello. Valgono i consigli di lotta dei bollettini precedenti e le indicazioni di lotta passiva con le trappole massali e le reti. Un ringraziamento va come sempre a Cattolica Assicurazioni, Codive, Consorzio Agrario del Nord-Est, Banco BPM, la Camera di Commercio di Verona, l'Ecofarm, Agrea e il Collegio dei Periti Agrari e Periti Agrari laureati della provincia di Verona. Un saluto e un arrivederci al prossimo notiziario frutticolo. Grazie a tutti! Grazie a tutti!